Sabato 19, domenica 20 settembre, ad Ascona, piccolo paesino nel comune di Santo Stefano Daveto, si svolgerà la festa patronale della Madonna Adolorata, quest'anno nella bella chiesetta parrocchiale recentemente restaurata. Chi deciderà di venire alla festa troverà un menù gastronomico a base di piadina romagnola originale, preparata da persone esperte venute appositamente per l'occasione. Tra giochi vari e l'estrazione della lotteria, sabato sera, dopo l'esibizione del coro Storeghina dell'Associazione Nazionale Alpini di Genova, ci sarà l'atteso spettacolo pirotecnico. La giornata della domenica inizia alle 8.30 di mattino, verrà celebrata la prima messa e poi alle 11 la messa solenne. Nel pomeriggio ci sarà la processione della Madonna Adolorata con predica in un prato, una cosa molto suggestiva. Durante la processione ci sarà la banda di Santo Stefano Davito che accompagnerà tutta la processione dalla uscita della chiesa fino al prato dove si terrà la predica. Ad aggiungersi ai festeggiamenti anche il Circolo Latana, storico ritrovo del paese, che quest'anno ha compiuto ben 35 anni di attività.